Musica Benvenuti in un nuovo video Eccoci qua raga Da quanto tempo non registravamo Un video insieme E l'avevamo fatta E l'avevamo vinto in macco Noi non entravamo più nel tavolo Avevamo mangiato troppo Non lo so Comunque raga io non vedo l'ora Benvenuti in questo macco Qui abbiamo le nostre coca e zero Abbiamo gli anelli di cipolla Che mi fanno una gola Poi ovviamente raga Non sponsor però c'è da tutte le parti Ma vabbè non fa niente Allora io ho preso Gino Gino alla gallina Che sarebbe patate Patate al forno Pruovola, una salsa loro E ovviamente il pane E la cotolenta Stessa cosa Io invece del panino Sono due cotolette Con maionese Cedar Bacon E poi Lo voglio assaggiare Ok raga Iniziamo Degli anelli Sì Ci sta Prego Gigi Ci voleva passare Buoni Io non avevo mai mangiato Così buoni No vabbè Sono belli I croccanti Io li provammo All'ultra Orribili Ancora caldi Buono Vi ho chiesto stamattina Che poi questo McBank È stato molto improvvisato Io ieri sera Ma domani registri Con me Ok ci avete fatto un po' di domande Su Instagram Quindi mi raccomando Se non mi seguite Su Instagram Sevitemi Ok No però io ho morso Allora apriamo le Coca Cola Aspettate Ma abbiamo il programma Di fare un video Fateci sapere Se mi può interessare Dove rispondo Agli Ah ok E quindi raga Fateci sapere Se vi può interessare Così selezioniamo I vari di commenti Io già rido Ci divertono tanto Sì Ok dai Assaggiamo questo Quattro Voi come mangi Mangia assurdo Questo non l'ho mai provato Bello 3,2,1 Morsino Ti assaggiamo la salsa E' buonissimo Massaggiare il mio Però tutto passaggio Buono Veramente buono Una cosa particolare Sto godendo C'era Avevamo bisogno Di questo Di questo panino Un po' così Ok Allora Prendo le domande Io vi sono insozzata Tutto No Non lo vuoi assaggiare Allora alla fine Non hanno niente Di particolare Però è proprio buono C'è proprio questa Ci stanno Le patate Tutto Verò Per quanto Non serve C'è la volta Ok Ti piace? Quella è bacicollina Però Allora Aspettate ragazzi Ogni tanto facciamo così E caraccia Ok Prima di tutto Vi mandiamo un grandissimo bacio Grazie a tutti Grazie per la collaborazione Allora Avete guardato Bridgerton Che ne pensate? Si L'abbiamo Subito Ci ha trattato molto La serie Anche perché Per scoprire Poi Che c'era di C'è alla fine Niente di Wow Però è particolare Secondo me È una serie Da vedere Anche l'ambientazione Un po' Anche personale Stile inglese Bello Anche se La mia serie Tipo preferita Di questo mese È stata fatta Ah si Vabbè Per capire Cosa Vederci Quindi Se avete qualche serie Carina Partisipate Sapere E niente No Promossa Non mangio Se volete vedere Vedete Cioè Se la volete vedere Vedetela Io anche le ho qualche sfondone Lo faremo Eh Cos'è Vi state aspettando Questo Poi Il vostro cibo preferito Fast food In generale Cioè Sì Pizza Pannino Ma penso Un po' Tutto Fast food Ma detto Cibo preferito Non piatto No cibo Quindi c'è Tutto Ok Poi Avete sempre Avuto un rapporto Così bello Oppure prima Li ti cavate più spesso Questa L'abbiamo risposta Spesso Questa domanda E Alla fine Parlo Prima non tanto Non avevamo un rapporto Così Però con la quarantena Eccetera Si è rafforzato Mi spesso Ne abbiamo parlato Dopo nel video Scorso Ma Quindi Raga Ve lo lascio Giù Nell'info Box Che Sarebbe Quello Del Puzzetillo Ok L'era Quello Sì Sì Prima Diciamo Qualche anno fa Non era Lo stesso rapporto Invece adesso Completamente diverso Cioè Proprio A parte Telepatia Ma poi Siamo sempre Insieme Quindi Ci sta Buone Su Buone Ok Ok Non è una domanda Volevo ringraziare Questa ragazza Che Mi ha fatto Proprio commuovere Infatti pure La faccio Perché spesso Anche io gli faccio Leggere i messaggi Che mi inviate Lei così Oh Che cucchia Comunque Non è una domanda Ma sono analistica Da due anni Come dirti grazie Perché il modo In cui mangi E ti approcci al cibo Mi fai sentire Mi fai sentire Meglio a volte Quindi grazie Grazie Veramente Io sono soddisfatta Perché veramente Posso dire Da quando ho iniziato Il mio percorso Su youtube Eccetera Io ho aiutato Veramente Tantissime Tantissime Ragazze E questa è per me Una delle soddisfazioni Più grandi Non serve una laurea Per aiutare una persona Basta che ci stai Comunque vicino Gli fai capire Che tu ci sei E questa per me La soddisfazione È più grande A di là di tutto E ciò che ripaga Di più alla fine Perché senti Tante esperienze E grazie pure Alle vostre esperienze Io riesco Ad aiutare anche Altre ragazze Quindi Un po' del mio Un po' del vostro Aiutiamo un po' tutti Poi Domanda frizzantina Bene Ti interessa qualcuno Riferito a me Perché lei è già fidanzata Sei bellissima Giulia Grazie Anche se è bella Non ti offendo Grazie Sì Facciamole tante Sì Facciamole la tampalla Sì Però ragazzi Al momento nostro Io sto bene sola Poi se arriva Se non arriva Le cose più si cercano E più Non arrivano Quindi Arriverà Quando meno Te l'aspetti Come è successo Bene Prossima domanda Ciao Prossima domanda Se per un giorno Mi svegliaste L'una nel corpo Dell'altra Cosa fareste Per prima cosa? Io lo so Io mi sveglierei Mi mangerai un bel cornetto Un bel latte Hai già pensieri Poi Mi siederei Mi truccherei Perché raga come si trucca lei Io non mi so truccare Mi prendo le liner Faccio una bella liner Mi metto una bella maglietta scollata Ed esco Io andrei ad allenarmi Perché non sono proprio capace Fare gli squat Perché per me è qualcosa di oscuro Ma sempre Perché sicuramente quando andavamo in palestra Ti ricordi Io devo fare quello No C'era proprio capace Mettila di macchinare Poi No non siamo in competizione Tra noi Anzi no Ma tu hai finito No no Volevo sapere la prossima domanda Ma tu hai finito A parte che non è Cioè era piccola Con questo pane è una godura Ma non è troppo doppia Secondo me la cotoletta Detta Un po' sì Che si fa tutto il panino Ma questo invece è buono Cioè è una cosa leggera Tra virgolette Perché non c'è il pane Sì Molto fit Sì fit Sì Domanda Domanda Allora Vorreste Vorreste leggere il finale del libro Della vostra vita Se sì Leggereste come Quando finiranno No Che ansia No Chissà che c'è Storchit No no Comunque no Viviamoci la vita Una cosa che entrambe odiate A tua sorella piacciono Alcune delle tue creme proteiche Giulie Aspetta Qual è la prima domanda Qualcosa che noi Dia Una cosa che entrambe odiate A tua sorella piacciono Alcune delle tue creme proteiche Cioè In una persona Oppure in generale A voi Di una persona La falsità Non pensi di una persona Però quanto sa Che odiate Eh Come c'è o no Odiamo due cose differenti Una Non lo so Qualcosa in generale Pure tipo Di che fiume Però Mamma mia Di garanza Mamma mia La falsità Va bene Però penso che la domanda Non sia ripetuta le persone Ma va bene Andiamo avanti Ecco La stagione di male No La cosa che vediamo Magari Ti piacciono le mie creme Allora Vi consiglio Allora Mi piace Quella là Della Delicious A Rocher Poi Aspetta Quale è quella Quale? Coco Quella là Burro d'arachidi Quello là Però con i persetti Quello della coro Che non lo fanno più Quello so Era bello e buonissimo Pocco e margola Come si chiamava Raffaello Sembrava uguale Poi Quella bianca Che voi provate Quella della skinny Quella Che è buona Tipo Io Di solito Quando faccio video recensioni A volte Si trova anche lei Qui con me Di a volte No Quindi di solito Quando non mi piace Una ferma Io per essere sicura Della mia Opinione Vado poi da lei Una volta registrata E faccio Antone Prova pure tu Fammi se sono io Forse ho provato tante creme E fa le fa No 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 Giulia L'altra è più buona No 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 Quindi sempre Oppure quando vedo tipo recensioni Che tipo c'è un prodotto Che a me proprio Io bocciatissimo Che non mi piace proprio Vedo persone che Lo promuovono E faccio Ma come Non è l'assaggiato Non è l'assaggiato L'assaggiato Quindi facciamo sempre questo No questo mi piace No ma la delicious No Pure quella fit porno Bianca Stavo dicendo Pure la fit porno bianca Non so Sì Io non sono proprio amante Di queste creme Però ogni tanto Quando sei pancake Che Mauro Non l'ho fatta In un certo di tempo Mi piace Però ragazzi Non lo dice Pancake fit No no Non è proprio Bologna Normale Ok A che età Il primo bacio Per tutti e due A me 17 16 Bir manzallo Oggi già La penso sia anche tardi Felicia A me 17 Quasi di sotto Sì Non siamo Ma con tutti questi Casimani C'è Ci abbiamo Fratelli Infatti Ma adesso È un libro Comunque No 16 16 Anni Quasi di sotto Sì No Adesso Diciamo Quanto sei rialta? Io ho voluto 70 Lei non mette una Di corso No No Non è Sostanziato Non è Esagerata Pure Esatto 5 Anni Poi Cosa ne pensano i tuoi genitori Del tuo lavoro Nei social Riesci a guadagnare Uno stipendio medio Sì Anche perché C'è anche mia sorella Che può confermare Il mio lavoro Oltre comunque Io Ho tre lavori Youtube Con il mondo Delle collaborazioni Per me Fa tutto parte De una nega cerchia Quindi è un suo E un lavoro Poi ovviamente Gestisco lo shop Di mia sorella Mi occupo io Quasi di tutto E quindi Quello è un altro Lavoro Che comunque Da poco Però Sì Il secondo lavoro E in più Ho un terzo lavoro Che esclude Il mondo di Youtube Proprio dei social In generale E Così Una cosa Dico sì Però è un'entrata Comunque In più A fine mese E quindi Sì Riesco a portarmi Alla fine A casa Con i stipendi A fine mese Sì Sì E Mamma e papà No Vabbè Hanno sempre Creduto In lei Ma niente Anche perché Comunque Vedevano anche Comunque Come io Mi comportavo Sul web E quindi Anche per questo motivo Sì 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 Poi ho fatto Comunque Per quanto Posso avere Comunque 19 anni Ho fatto Comunque Tante esperienze Di lavori Diversi Quindi Una volta Con la scuola Che l'alternanza È stata più Basata Proprio sul lavoro Una volta N'estate Che andavo A lavorare In più Ho sempre Fatto Nel mio piccolo Anche L'estetista E continuo Anche oggi Ogni tanto A fare Comunque Questo lavoro Quindi Che questo sarebbe Il quarto lavoro Me lo Lasciamo stare Comunque Una piccola In casa Che magari Sommando Si Si unisce A tutte le altre Sì E questo Comunque Mi permette Poi di realizzare I video Di acquistare I prodotti E ecc Perché comunque Dovete capire Che YouTube È l'investimento E lei lo sa Di spese Mamma mia Ci sono Tante Tante Spese Comunque Comunque Questi Anche freddi Sono buoni Sembano Le patatine Tipo Buone Buone Ci voleva Tipo Quelle salse Io odio La cipolla Io odio La cipolla No ma Così è buona Fareste Tipo Riconoscere L'originale Verso Sottomarca L'abbiamo Anche già Fatto Però Lo faremo Sicuramente Mamma mia Col video Che sfondone La cipolla L'originale In bobox Che è la prima Ad alzarsi E l'ultima Ad andare a dormire Avete delle routine simili Routine Giornaliere No Infatti Io sono la prima Che mi sveglio Che alle 6 O alle 7 O alle 8 Mi sveglio Le impattate Però ovviamente Dipende Cioè se deve studiare Deve dare un esame Allora Si sveglia presto Quindi Dipende La prima Che va a dormire Di solito Lo stesso orario Oppure di solito Prima io Dipende Dipende Sempre dalle circostanze Però abbiamo Una routine Completamente diversa Ciao Come vi chiamavate Quando eravate piccole Soprannome Giù Giù Io E' una cosa che odio Eccola Io di solito Quando non mi ascolta Spesso Mi senti chiamarla Anto Antone Tony Mamma mia Mi urta Mi urta Questa E' lei Perché abbiamo Abbiamo orari Diversi Tipo a quest'ora Non potevo mai fare Non avrei mai potuto fare Un video con lei Perché è già andata A lavoro A quest'ora Quindi Ci sai Sono più rari Che non congito Ti paghi da sola Ti paghi da sola Ti ordini per il fitness Sì Da quando? Sì Da quando ho aperto il canale Io non sono mai andata Da mia mamma O da mio padre A dire Mamma Mi servono 100 euro Mamma Mi serve 50 euro Perché devo fare in ordine No Anche prima Quando ho iniziato Comunque i youtube I guadagni Non erano tanti Non vi pensate Che adesso Ti do guadagni Quanto so Perché l'insieme di tutto Che allora mi porta Da per uno stipendio A fine mese Ma comunque All'inizio Io non collaboravo Con nessuna azienda Quindi Facevo io Le uscite Che entrate Esatto Le uscite Che entrate L'attrezzatura Ho pagato tutto Io con i miei risparmi Un po' Prima che lavoravo Fare cose Ho sempre risparmiato Per poi poter investire Quindi Te li paghi due cose Mi prego di alcune cose E porto avanti il mio lavoro Come giusto che sia Poi Il tuo lavoro Ha mai portato via Del tempo Alla famiglia Amici Anche un pranzo Insieme a loro No Cioè di solito Dipende Cioè di solito Quando non potevo In quella giornata Rimandavo al giorno dopo Dopo due giorni Però Non mi sono mai privata Alla fine Anzi Questo è il bello Del mio lavoro Che posso portarlo in giro Insieme a me Ounque vado Posso sempre portarmi con me Il mio lavoro Sì Quindi sì Ok Vediamo se ci sta l'ultima Perché alcune sono molto rivolte A me Questo è uguale Sei bellissima Lei già me lo chiese Fai un haul di Shein Sei bellissima Leggi bene Sei bellissima Sei bellissima Faresti un haul Su Shein Insieme a tua sorella Sì Dai Vediamo Dai Vediamo Che lei è un po' Però sì Adesso ho fatto un po' Di shopping Nell'ultimo video Niente decla Tante di Beshka Che affalone Ma mio Però di solito ve l'ho detto Già ma non voglio Acquistare tanti capi Anche perché non sappiamo Come si evolverà Questa cosa in estate Eccetera E così niente Il McBan è andato Il panino è stato mangiato Veramente Molto buono 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 Gino promosso Perché ragazzi Potete trovare tutto da Gino Ormai non so se l'avete letto Perché l'altra volta Pure ce l'avete chiesto Da sporto Da sporto Io Quindi abbiamo anche supportato Le piccole attività Io spero che Noi speriamo Che questo video Vi sia piaciuto E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao Ciao